carissimo nobile carissimo nobile carissimo anche a te nobile ma tu ascolta ma tu sai anche leggere il futuro nelle carte o no? il futuro no? quello sono i chi romantico potrei scrivere un libro io se volete sono leggere il passato adesso proviamo un esperimento tanto ti chiedo una cortesia dimmi una carta da gioco una che ti piace a me la carta che mi piace che sembra vincente per me no una che ti piace a te il 7 di cosa? a te no no di quadri di te ah quelli da poker vai ma di cuore vai il cuore 7 di cuore? si 7 di cuore ti piace a te di cuore? eh no lo scelgo perchè il cuore fa parte della mia tua madre no 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 il mio cuore è come che il mio cuore non nomino parecchio il mio cuore 6 8 di cuore ok no no adesso ti chiedo una cortesia mi dia un numero lei la carta che lei è a Giuliana del 8? tutti del 8? va bene ma fa parte dell'educazione l'ho capito no no ma adesso ci darà adesso ci darà del tutto se lo dai quello che voglio fare capire è questo che di un mazzo di carte esiste una spiegazione un po' strana molto strana le carte non hanno dorsi truccati normali ok? puoi dare due carte no perchè poi sembra che io posso manipolare guarda io scusa io sono molto fissato perché io sono un meridionale sul fatto delle carte bellissima che dice questa tu tenga lei ha detto il numero che aveva nella sua mente giusto? si che però io in un certo senso anche se non glielo ho parlato molto in questo frangente l'ho studiata un po' no? ma questo è il mio lavoro e stessa cosa vale per te si è normale puoi darmi del tuo a te ok va bene 7 di cuori numero 8 giusto? se l'ottava carta di questo mazzo dove io ho tolto l'elastico giusto se il testimone certo fosse il 7 di cuori sarebbe interessante la cosa sarebbe interessante la cosa per me si perchè a me mi piace il 7 di cuori no ma lei ha chiamato l'8 no io a me e il mio è il 7 di cuori ha detto la 7 lo dice vuol dire che mi ama? si conto? 8 giusto non lo sai che risale Antonio? guarda adesso 1 2 3 5 6 7 questa è l'ottava carta l'ottava carta aspetta perchè lei ha detto 8 tu hai detto il 7 di cuori il 7 di cuori è quello mio però è l'ottava carta la Giuliana ha detto numero 8 si no ho capito che lei ha chiamato la carta che ha chiamato lei numero però me lo puoi rifare di nuovo mischiando le carte per favore? no scusa no scusa tu me le mischi le carte subito al volo una carta veloce me le vuoi mischiare per favore? ma voi salpezzate per favore? io sto chiedendo un favore ma perché le devi mischiare? è una cosa mia non posso chiedere di nuovo 7 di cuori facciamo il re di cuori il? il re di cuori ti piace come carta? si si perchè il re è quello il re è aspetta senti devo dare un numero si numero? 12 12 e sopra il re di cuori? no giusto? ok dorso o faccia? cosa le piace a lei vedere nella vita? la faccia la faccia quindi girami di faccia al marzo no la faccia ecco qui hai scelto faccia 3 di cuori 12 12 ma che cosa fai? attento eh Antonio fai la caccia 12 all'undicesima ti metto così all'undici ti fai una due tre tre quattro cinque sei sette mostro la con del tarantino otto nove e dieci undici fermo dieci dieci eh mi devo fermare dieci no l'undici ecco pfff non è possibile non è possibile non è possibile nooo piacere nobile piacere nobile piacere nobile interessante interessante altre altre che Silvia 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 Prendi una carta, una scuola, una scuola, una scuola, una scuola, una scuola, una scuola. Aspetta, 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 fuggi la parte destra, fiori picche, picche, nera di picche, Puoi confermarmi che nera di picche? Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, donna, tre. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 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 un sei di picche può essere. Ma, 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 c'è sempre un ma. Vogliamo entrare dentro la banca, riesci a, 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 riesci a fattimentare i cazzieri che i soldi mi prendo io. Allora, proviamo una cosa. Proviamo una cosa. Sì, io, io. Tocca la cena. Dio, mi. Mettete io già, Antonio. Non muore. Guarda, sei proprio micidiale. Non muore. Eh, che faccia? Fai la vediamo a te. La devo guardare. No, no, no. La devo fare vedere a me. La devo fare vedere a te. Sì, sì, sì. Tu hai preso una carta che volevi la mano. sta calma io mi ho messo a trattare male mi sta bene? ora scusi ora dimmi stop quando vuoi tu stop, stop basta che si parla, giusto? giusto? uno sta da nel niente devi guardare ma ti ricordi qual era? a Giuliana si ricorda io mi ricordo rossa di quadri no, rossa di quadri? si, ecco cerchi di quadri si che è toccato? allora, quando vi la messe cerchi di quadri no, sai cosa? basta battere e cambia, vede? scusi, ma perché è uscito questo? no, fa' me capire allora, dite quel picchino dicono un picchierino di miei dopo un picchio c'era di miei c'era di marte su marte? guarda questa a marte stai così a marte bello? si, si Oppure così gli ufo